Ben ritrovate amiche e amici dell'Atletica. La ventesima edizione della mezza maratona città di Palmanova è ancora africana. Dopo il successo dello scorso anno del keniano Kibet Kiptu è toccato al ruandese John Akitsimana, GS Il Fiorino, un'ora 3.34, l'onora di tagliare per primo e con pieno merito il traguardo in Piazza Grande, mentre la keniana Veronica Nierimaina, anche lei del gruppo sportivo Il Fiorino, si è ripetuta bissando il successo della passata edizione con il nuovo primato femminile limato di tre secondi. Continua dunque il filotto di vittorie dei campioni del continente nero. In campo maschile la piazza d'onore è stata occupata dal keniano Roger Maio, podistica Torino, in un'ora 5.23. Bronzo ha un altro keniano, Lengen Lokuraru, Atletica Saluzzo, in un'ora 5.37, che l'ha spuntata e involata sul primo italiano, Isacco Costa, l'area Castello Radici Group, in un'ora 5.38. Francesco Nardone, Gemona Atletica, è il primo dei regionali e conclude con un buon quinto posto in un'ora 6.02, non molto lontano dal personale fissato lo scorso anno a Valencia, un'ora 5.47. Nei dieci anche un altro regionale, Daniele Torrico, Trieste Atletica, un'ora 9.37. Identico copione tra le donne con Veronica Nieri-Maina, che con la sua corsa incalzante e potente ha spento le aspirazioni delle sue avversarie, correndo a caccia del record che è arrivato puntuale con un'ora 11.39. Gigori Gipora Vangiru, seconda, keniana come lei, ha terminato in un'ora 15.06, mentre la terza piazza è dell'etiope Asmerawolk Bekele, in un'ora 16.19. Quarta, la keniana dell'Atletica Bruniera Friuli-Intagli, Esther Vangui, un'ora 17.30, e quinta la prima italiana, Eleonora Lott, Atletica Ponzano, un'ora 19.21. Nella top ten anche le nostre Martina Festini-Purlan, Bruniera Friuli-Intagli, sesta, e Tamara Giorgi, Trieste Atletica, nona. Con la collaborazione di Andrea Ceschi abbiamo raccolto le impressioni dei runner. Sentiamo. Raccontami com'è andata, il nuovo percorso ti è piaciuto? Bellissimo, il passaggio dentro a Strasoglio è stato tosto, bello ma duro, difficile. Era giusto per fare dei tempi, lì c'era un ciottolato. Sì, esatto, lì si perde un po' il ritmo, però bellissimo il percorso, molto più bello delle edizioni passate. E della tua prestazione sei contento? Sì, sì, decisamente sì. Sotto 1.20 era l'obiettivo, quindi sono contento. Vi andare. Sì. Ciao, grazie. Sono molto contento, sono riuscito a fare il personale di una trentina di secondi, quindi bene, sono molto contento. La giornata permetteva buone prestazioni, nonostante le asperità finali dovute al tratto susterrato, comunque sono molto contento. E appunto, hai fatto il personale in un percorso difficile. Sì, fino al diciottesimo si correva ancora abbastanza bene, poi quel piccolo tratto di un chilometro o qualcosa sulla parte susterato non ce l'aspettavamo, ecco. Io non me l'aspettavo perché ero rimasto al vecchio percorso che sapevo che era cambiato, però non mi aspettavo questa parte più complicata alla fine, che ci ha reso la vita un po' più complicata, però allo stesso tempo ha avuto più gusto continuare sullo stesso ritmo e riuscire a fare il personale nonostante questo piccolo inconveniente. Senti, si chiude l'anno alla grande quindi, adesso i cross? Adesso partiranno i cross a gennaio, quindi partiremo molto probabilmente con il primo di Casarsa. Cominciamo dalla fine, com'è andata il tempo finale? Beh, un vince Dodis, vedi 15 secondi meglio dell'ultima volta a Valencia un mese fa, era la mia prima maratona a Valencia. Volevo ripetermi oggi, cercavo di scendere sotto l'ora e venti, speravo di farcela perché fino al diciassettesimo ero a un ottimo passo, sempre 3.45, 3.45, 3.45, 3.45. Poi dal castello di Strassoldo c'era il ciottolato, in poi è stata dura, gambe belle pesanti perché ero leggermente più forte del mio ritmo ideale, quindi ho pagato. C'era un po' di vento anche alla fine? Non mi ha dato nessun fastidio, giornata ideale, voglio ringraziare Simone, il mio compagno di squadra, il Bruniera a Pordenone, perché mi ha dato una mano lui. Lui nel lungo ha un passo migliore del mio, il 3.45 è stato praticamente a merito suo perché mi sono incollato a lui fino al diciassettesimo e dal castello in poi l'ho mollato perché non avevo più. Un po' di riposo adesso? Se si riesce oggi pomeriggio terme, domani corsetto a discarico e poi sì, fino a domenica prossima si molla un po' il colpo, se no si diventa matti. Abbiamo Barbara al traguardo, questa è una persona molto importante per il mondo dei runner perché è stata la prima italiana l'anno scorso. La miglior trasmissione, bravissimi complimenti, noi siamo di Trieste, non ci mostrano mai niente, ma in 70 triuli, grandi, mandi. Grazie, non era preparata, grazie mille. Fonda di categoria Siviglia con 3.02. Allora tu giri il mondo? Sì, sto facendo le major, me ne mancano due, ho appena fatto Berlino e New York e adesso ad aprile andiamo a... Adesso tra due settimane a Malaga, poi faremo Boston e nel 2024 chiudo con Tokyo, le 6 mesi. Allora si gira, si viaggia correndo. Si coglie l'occasione per fare questa attività sportiva che io amo, per viaggiare anche il mondo con la famiglia e quindi si associa all'utile, al dilettevole e alla passione che è la corsa per me. Visto che hai visto il mondo, come giudichi questa mezza maratona di oggi? Molto bella, molto veloce e il tempo è stato anche favorevole perché comunque è la temperatura ideale, perfetta, però bella, piatta, veloce, mi è piaciuta. Poi ovviamente in un contesto come questo di Palmanova sicuramente merita. Il tuo tempo di oggi? 1.25.16 Bello andare. Sì dai, bene, sono contenta. Uno dei quattro senatori di questa mezza maratona, un onore parlare con lei, signor Gerussi. Addirittura, grazie. Sono onorato allora, anche io, di essere intervistato da te allora. È andata bene anche questa ventesima edizione, cambiato il percorso, un po' più, parte lo sterrato del penultimo chilometro insomma non era proprio il massimo, era un po' in difficoltà, però comunque dai, non è male, giornata splendida, giusto, ideale per correre, bene, bene, dai. Sei proiettato verso la ventunesima? Certo, il minimo. Come è andata oggi? È andata bene, anch'io ho apprezzato il nuovo percorso, a parte l'ultimo pezzo di sterrato, un pochino faticoso, però una bellissima giornata, Palmanova è sempre bella insomma. Adesso cosa farai? Qualche campestre? No, penso che riposerò un po', visto che ho fatto la maratona a Monaco anche, quindi riposerò un po'. Gian Pietro Marangone, Aldomoro Palluzza significa corsa in montagna, questa non c'è molta montagna qua. Ma anche in pianura. Poi oggi ho fatto il personale, quindi grazie al lavoro in montagna si viene in pianura. Aiuta anche la pianura? Purere in pianura. Quindi tu adesso continuerai a fare qualche corsa su strada o ti proietti sulla campestra? Sì, sì, adesso facciamo Teleton sabato e domenica e poi chiudiamo con Cittadella. Abbiamo Matteo Spano con noi, appena ristorato e si sta mettendo la medaglia da solo. Questo cosa significa? Non sarai mica proiettato verso le mezze maratone e le maratone adesso? Mi ha spaventato il giorno prima e in generale tutta la settimana, però oggi me la sono veramente goduta. È stata una gara bella, regolare. Ringrazio l'amico Matteo Sabadini che è qua, che mi ha dato il ritmo perché sennò io probabilmente scoppiavo. Ho provato anche a chiedere a Renato un passaggio ma non me l'ha dato, fra parentesi, però è stata una bella gara. E devo dire che l'organizzazione è bellissima, per me che vengo dalla pista è una cosa nuova, anche i massaggiatori, il pacco gara. Ha paura di cadere in partenza. Sì, 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 guarda, solo cose positive oggi. Ma questa è soltanto una specie di preparazione in vista dei prossimi cross, sarai proiettato a gennaio con i CDS. Sì, sì, esattamente. Quest'anno sono tornato a fare una preparazione da prolungato in cui mi trovo bene. Io ho bisogno di mettere chilometri sulle gambe, oggi ne ho messi una vagonata. Direi che in vista delle campestri è un buon punto oggi. Oggi com'è andata? È andata anche oggi bene, il tempo migliore di Pordenone. Comunque a Pordenone era una gara interlocutoria per arrivare a questa gara qua in forma. Ho corso bene, peccato gli ultimi 5-6 chilometri dal ciottolato in poi, il falso piano in salita, un po' lo sterrato, un po' il vento contrario. Fanno perdere quei 5-6 secondi al chilometro e poi quindi sul tempo finale si sentono. Organizzato da eventi sportivi Palma Nova, l'evento palmarino cominciato venerdì con la staffetta scuole e proseguito sabato con la passeggiata con i cani sui bastioni della città stellata, si è concluso domenica con la mezza maratona e la non competitiva che puntava il dito sull'annoso problema della violenza sulle donne. Oltre 1.200 classificati alla competitiva, 700 alla camminata, sommati a quelli della passeggiata con i cani e della staffetta scuole, dicono che si è indubbiamente trattato di un successo su tutti i fronti. Il resto dello spettacolo lo hanno messo in scena la massa dei podisti che hanno colorato la corsa svegliando dal torpore le località attraversate dal nuovo percorso. Gian Pietro Cappellazzi, nelle vesti di speaker, ha motivato i runner come sa fare lui e all'arrivo applausi per tutti, ma soprattutto per Stefani, colpita da SLA. Massimo Collini, vicepresidente dell'Atletica Buia, assieme a un gruppo di amici, ha spinto la sua carrozzina fino nei pressi del traguardo che lei, sostenuta dagli accompagnatori, ha tagliato tra la commozione dei presenti. E' stata questa l'immagine indelebile incisa, assieme a quella del gruppo di ragazzi, degli amici di Diego, nella mente e nel cuore di quanti hanno potuto vivere e condividere questa nuova avventura sportiva e umana nella città di Palmanova. L'ultima parola al presidente della società organizzatrice. Sentiamo. Una giornata meravigliosa in tutti i sensi. Adesso speriamo che si concluda meravigliosamente così come è iniziata. Questa mattina colgo l'occasione anche per ringraziare gli amici dell'amministrazione comunale che c'è stato il sorvolo in elicottero qui a Palmanova. Cosa dire? Il percorso era nuovo, per cui dovevamo collaudarlo. Sembrerebbe che sia stato collaudato egregiamente anche perché la Veronica, adesso non ricordo il cognome, ha abbassato ulteriormente il tempo, se non ricordo male, di due secondi. Quindi vuol dire che contro ogni aspettativa il percorso allora è risultato anche questo veloce. C'è un bagaglio tecnico che si abbina benissimo anche a quello paesaggistico. Io direi che hai fatto bingo. Sì, poi l'hai visto anche te che siete passati. Siamo passati insieme invece, tu con l'operatore moto, io a fianco a voi per fare da scorta. Siamo passati nel borgo di Strasoldo che penso sia stato veramente un passaggio suggestivo e caratteristico. Con l'inverno alle porte è tempo di corse campestri e la prima della FIDAL in provincia di Urdine si terrà al Parco del Cormor domenica 4 dicembre con l'organizzazione del centro provinciale Libertas che proporà la quarta prova del trofeo massimo Brisinello. Si correrà a partire dalle 9 e le gare vedranno ai nastri di partenza le categorie esordienti, ragazzi, cadetti, allievi e junior, maschili e femminili. Iscrizioni da effettuarsi online sul portale della FIDAL esclusivamente da parte delle società e si chiuderanno venerdì 2 dicembre. Appena il tempo per rifiattare ed è conservito giovedì 8 dicembre il Cross di Monte di Buia, una classica nata sulla scia della mezza maratona che si correrà prima che i dirigenti dell'Atletica Buia Treppo Grande abbracciassero la soluzione cross, molto più indicata per una location che ha tutte le caratteristiche tecniche e le difficoltà che rendono spettacolare la disciplina della corsa campestre. Ritrovo alle 8.30 presso l'area festeggiamenti di Monte di Buia e dalle 9 partenza del Cross Country Kids, due gare promozionali per ragazzi da 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 14 anni. Dalle 9.30 partiranno le gare assolute, premiazioni alle 12 alle quali seguirà il pasta party. Le iscrizioni dovranno essere fatte esclusivamente dalle società tramite il portale online della FIDAL e si chiuderanno martedì 6 dicembre e solo in via straordinaria l'indirizio e-mail che vedete in sovra e in pressione. E questa era l'ultima notizia di questa puntata. Grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì prossimo. Ciao!